Ritorna, attenti a qui due, oggi dopo l'incontro che c'è stato nel discorso al D&D Lournè sul confronto tra Alessandro Consolino e Cristian Chiumera, i due giovani PD e Forza Italia, vorremmo ritornare a discutere sui giovani che si stanno prepotentemente facendo avanti, facendo vedere il vero valore di questi giovani che molto spesso vengono chiamati per riempire le folle, per riempire le stanze, per battere le mani, hanno dimostrato realmente la loro capacità. Io contesto una parola che dici prepotentemente, non sono proprio prepotenti, Io credo che la caratteristica che loro dovrebbero avere, visto la preparazione, su questo sono d'accordo con te, sono veramente molto più preparati della media dei vecchi che parlavano di riforme costituzionali, perché almeno sono entrati nel mezzo, ma anche lato merito ai due conduttori che erano bravissimi, erano anche lui naturalmente, però il problema è che loro, quelli che si formano dentro i partiti, come Cozzolino e Chiumera, sono un po' troppo attendisti delle gerarchie dei partiti, invece dovrebbero sfondare, perché hanno i fondamentali, quel giorno loro hanno dimostrato di parlare di Costituzione, di riforma costituzionale, sapendo del merito, cosa rarissima nel quadro politico, però poi questo lo devi tradurre in argomentazioni e in forza all'interno dei rispettivi partiti per rompere gli schemi. Faccio un esempio, se in politica non si fanno mai i se, ma se in politica fosse stato candidato Cozzolino a Latina e Chiumera a Terracina, i risultati elettorali sarebbero gli stessi? Ecco, bella domanda, ritorriamo a discutere di Chiumera a Terracina e Cozzolino a Latina. Terracina ha un caso particolare che magari intorno ci torneremo e affronteremo con grande attenzione su quello che è accaduto, ma sull'Atena non era scontatissima la vittoria di Enrico Forte, poteva essere un banco di prova per Cozzolino buttarsi, cimentarsi in una platea così importante? Secondo me, con seno del poi, naturalmente è facile fare un'analisi, sicuramente si doveva proporre, cioè bisogna che i giovani non attendano l'investitura dall'alto, ma se la vanno a prendere. Il nodo dei giovani è che i nostri giovani sono a volte, soprattutto in politica, molto attendisti, aspettano l'incoronazione, secondo me la corona te la devi andare a prendere, cioè la spalla e la roccia la devi tirar fuori, se tu la guardi e chiedi a Merlino, ma la posso tirar fuori? Comanda Merlino, se invece tu vai lì e la tiri fuori, capisci che sei il primo attore della partita, questo che manca ai nostri giovani, non la preparazione l'abbiamo visto in quel dibattito, ma manca il coraggio di prendere in mano le redini della partita e giocarsela più in fondo. Alla prossima volta.